Grazie di cuore Ok, a dopo, ciao Come? Eh, Mark, io non posso uscire di qui, Mark? Eh, sì, scusa, sono lontano, non ti prende dietro al muro Ragazzi, bentornati in questo nuovo video della vita in città Come sempre, è il vostro costruttore preferito che vi parla Che da subito vi chiede 12.000 mi piace Saluto, Marta, Furia e Gabbro Scrivete nei commenti hashtag Minecraftita per essere salutati nei miei video Se siete nuovi, iscrivetevi al canale col tastiero su qua sotto E attivate la campanella su tutte quante le notifiche E superiamo i 12.000 mi piace per un nuovo video sulla vita in città Vi ricordo che stasera sarò in live, ragazzi, dalle ore 19.30 Cioè dalle 7.30 di questa sera Sarò in live nel canale che trovate in descrizione e anche nella zona dei commenti Mi raccomando venite perché giocheremo tutti quanti assieme nel server mio personale di Minecraft Ci divertiremo, faremo un sacco di sfide Mi raccomando, passateci, è molto importante, vi voglio tutti quanti Ah, e ho saputo ragazzi che tanti di voi ancora non sono iscritti al mio canale Quindi mi raccomando iscrivetevi a questo canale e attivate la campanellina e 12.000 mi piace Non vi ho ancora detto però cosa andremo a fare oggi Lo so ragazzi, ho fatto una intro lunghissima Sembravo Steph quando fa le sue televendite ragazzi Però, allora, qua vi ricordo come sempre sarò in live questa sera il mio canale Lo trovate in descrizione, comunque lasciamo stare queste cose Andiamo subito prima di tutto a riscattare i nostri soldi Perché oggi dobbiamo fare due cose importanti La prima, vi presento un attimino il minigame che voglio fare Perché settimana prossima ci sarà un bel minigame In pratica farò sì che chi ruberà più oggetti dall'IKEA Se li potrà portare a casa Con calma, vi spiegherò tutto Prima però riscattiamo i nostri soldi, dicevo, perché li abbiamo già presi E dobbiamo mettere via i 5.000 del debito classico Più i 1.700, esatto, quindi mettiamo via i 5.000 E di qua i 1.700 Poi, paghiamo un attimo quello che abbiamo come il nostro solito debito da 100.000 in più E abbiamo 6.700 Io quasi quasi da questi soldi prendo 1.500 Facciamo prima, prendiamo un bel 1.500 euro Noi li mettiamo nel nostro debito da 57.000 euro E andiamo a esattamente 55.500 euro Mancavano altri 5 qua dentro secondo me Ok, a parte queste cose, mettiamo via tutto quanto Come notate, ho praticamente messo dei sigilli alle porte Ho praticamente bloccato il magazzino Perché non vorrei che il ladro vada a rubare qua dentro Ma non soltanto per questo motivo Vi spiego le idee del video di oggi ragazzi Oggi facciamo due cose Principalmente La prima Voglio fare un minigame Voglio fare un minigame Che in pratica Parteciperanno tutti quanti i ragazzi della vita in città Cosa consiste in questo minigame? Allora Adesso noi andiamo qua un attimino alle sterre E con questi blocchi di lana rossa Voglio fare una specie di cerchio O un quadrato Non lo so Adesso facciamo un assieme Intanto vi spiego quale sarà il minigame Per settimana prossima In pratica Voglio Creare tantissimi oggetti di lichia Tra cui mobili Come per esempio mobili da cucina Movi della cameretta Mi sa che farò un bel quadrato rosso Sì facciamo un bel quadrato rosso E voglio mettere questi oggetti qui In palio Allora In pratica Ogni concorrente Stai e feri saranno assieme ragazzi E quindi loro conteranno come Tu prendi un console O ti po' Chiamateli come volete E in pratica La sfida è questa Io metterò Un sacco di oggetti In palio Questi oggetti qui Potranno essere presi dai ragazzi Saranno all'interno delle chest Attorno a questo quadrato rosso qua Cosa deve succedere però I ragazzi Che prendono gli oggetti Devono In pratica Mettere gli oggetti che prendono Per esempio qua c'è un armadio Devono prenderlo E devono posizionarlo Dentro a questo quadrato rosso La sfida qual è Entro due minuti di tempo A testa Devono mettere più oggetti Dentro al Più oggetti possibili Dentro al cerchio rosso Ma Se Un oggetto Tra questi qua Tocca la linea rossa Perdono la sfida Se invece gli oggetti Che prendono Riescono a rimanere Dentro alla linea rossa Possono ottenersi Tutto quanto Quello che hanno preso Quindi La sfida mi sembra Molto divertente E ho pensato Che potrei farla Appunto nella vita in città E' una vita E' una sfida Dove Chi ruba più oggetti Ed è molto più ordinato Rispetto agli altri Vince Ditemi se l'idea vi piace Anzi se mi sono spiegato male Ragazzi ditemelo Che magari ve lo spiego Anche nei commenti Un pochino meglio Io direi che il cerchio Lo facciamo Non troppo grande Perché va bene Che ci devono stare dentro Tanti oggetti Ma non troppi Perché ovviamente Non è che posso regalare 2000 oggetti Yakuts E queste cose qui I ragazzi possono mettere In pila Anche gli oggetti Fino a un massimo Di due oggetti Uno sopra l'altro Ma l'importante È che gli oggetti Che rubano Non devono mai Toccare la linea rossa E secondo me ragazzi Il cerchio fatto in questo modo E' fatto molto Ma molto bene Vediamo eh Qua secondo me Un po' di oggetti Ci possono stare O al massimo ragazzi Lo allargo io un attimino Perfetto Per ora Abbiamo fatto un bel cerchio Un bel cerchio Andiamo di qua Mettiamo via intanto Gli oggetti che abbiamo Ci siamo rubati Abbiamo preso Ok Molto bene Poi andiamo dentro La stanza segreta Ah perché non vi ho detto Ragazzi Perché ho fatto La stanza con i codici Allora Vi ricordate che Gabby Non mi ha pagato La stanza Dell'interrogatorio Delle torture Che deve fare Per chi ha sparato a Steph Bene Mi avete tempestato ovunque Durante le live Nei video Marco ma Gabby Non ti ha mai pagato Bene Allora Io ho saputo Che Gabby ieri Ha fatto gli anni Nella vita reale Ragazzi Io ho pensato Posso fare un regalo Infatti dentro a questa cesta Qui ragazzi Ho messo Degli oggetti per lui Non ve li mostro Dopo ve li mostrerò A lui Però Io Lo fregherò Lo fregherò Lo fregherò Ok lo fregherò Perché dirò Gabby vai dentro C'è una cesta che ti aspetta Con dei regali Lui entrerà Ma rimarrà Ingabbiato Scusate mi gioco di parole Qua dentro Perché lui non sa il codice Ovviamente Quindi Ragazzi Molto semplicemente Io lo lascerò qua dentro E un pochino Lo torturerò Lo ingabbierò Qua dentro E gli farò parlare E gli farò capire Che ancora Non mi ha pagato Il debito Per la zona Di interrogatorio E sarà molto divertente Secondo me E ovviamente Devo anche farmi pagare Vabbè Pensiamoci un attimino Più avanti Comunque ragazzi Allora Io qua devo comunque Craftarmi Un po' di oggetti Un po' di robe Io partirei Innanzitutto Da degli armadi Perché essendo molto grandi Possono mettere in difficoltà Tutti quanti Anche però Nella zona cucina Ci sono cose interessanti Mi crafto un po' di oggetti Mi crafto un po' di oggetti Vediamo Mi crafto I forni Innanzitutto Perché non tutti Ce li hanno a casa E tutti vorrebbero Prenderseli Quindi prendiamoci un po' di forni Voglio prendermi però Anche di elettrodomestici Tipo questo mixer qua Nessuno tecnicamente Ce l'ha a casa E anche questo microonde Che è un po' più grande Forse soltanto Gabbia questo microonde Poi Questo qui cos'è Un Mexican Coupe board Ok Sembra un tavolo messicano Con degli oggetti Tutti quanti strani Non so se esistono i tavoli messicani Però in questo caso esiste Vabbè Fa niente Poi cos'altro abbiamo Abbiamo un tavolo giapponese Questo qua ragazzi Steph lo vuole Io lo conosco E poi c'è anche una stufa Che possiamo prenderci Ok Questi oggetti qui Credo che vadano più che bene Nella zona cucina Poi nella zona luci Non lo so se ci sono Delle lampade O cose strane Tollamp Questa lampada grande Ce la prendiamo Che ci può stare Zona living room Zona living room Lo scorso episodio Vi ho presentato Le poltroni nuove Che dovrebbero arrivare All'interno dell'IKEA Quindi un aggiornamento Dei mobili Che però Per ora non sono ancora arrivate Quindi aspettiamo Però abbiamo dei tavoli bassi Che abbiamo presentato Nel negozio dell'IKEA Ok Quindi prendiamoci Questi tavoli bassi Poi cos'altro abbiamo Che ancora non abbiamo mai messo In esposizione Queste sedie qua Sono nuove Queste sedie qua Non le abbiamo mai messe Prendiamo le cinque rosse E cinque gialle Dai cinque gialle Vanno più che bene Poi mi sa che Nella zona living room Abbiamo presentato Già tutto quanto Se non Questa sedia Che è un po' particolare Questa è nuova Questa sedia ragazzi Diamo gli un occhio Al volo assieme Ma è stranissima Ok Va bene Va bene Ci può stare Ci può stare Poi cos'altro abbiamo Ragazzi qua davanti Allora Buffroom Cosa potremmo mettere Ovviamente La jacuzzi ragazzi Questa so che potrebbe essere Molto richiesta dai ragazzi Ma anche una doccia Che è molto grande E particolare Da mettere intorno Di quel quadrato Che secondo me Dovrò ingrandire un pochino Perché sto notando Che gli oggetti Che sto prendendo Sono molto grandi Potrebbe essere utile Potrebbe essere utile Poi Cos'altro abbiamo qua Qua abbiamo Le tende Ma che bello Sapete che sto pensando Di mettere oggetti In realtà All'esterno E non Dentro una cesta Direttamente un po' sparsi Poi la lettiera dei gatti La prendiamo Perché magari Per SFR può servire Chi lo può sapere Poi cos'altro abbiamo Vediamo un pochino Cos'altro abbiamo qua Porte Direi che le porte Ragazzi per ora Non servono a nessuno Secondo me Poi vediamo qua Che altro oggetto Abbiamo regali Questa qua Tutta roba natalizia Quindi anche roba di Halloween Roba per le feste Infatti si chiama Holiday la sezione Poi per la cucina Abbiamo già comprato Per la cucina Abbiamo preso tutto Quindi andiamo qua Nella zona lampade Abbiamo già visto Living room pure Market anche Office Qua ci potrebbero essere Dei tavoli ragazzi Che potrebbero servire Uh Il water dispenser Qualcuno come Marci Li potrebbe piacere Un bel water dispenser Poi cos'altro abbiamo Abbiamo Un tavolo d'ufficio Secondo me Per esempio A Stai e Fere Il tavolo d'ufficio Non avendo tutto lo spazio Che hanno magari Anche Gabby e Marci In una loro casa Stai e Fere Sono un po' più stretti Nientro la loro casa Secondo me Non hanno uno spazio Per mettere una tavola d'ufficio Quindi non ci serve Allora Qua cos'altro abbiamo Abbiamo un bel mappamondo Che potrebbe essere carino Un bel mappamondo Ok Poi nient'altro Qua Niente di molto utile Sport Una bella porticina Per il calcio Ci può stare Sì ragazzi La zona che ho fatto All'esterno È completamente inutile Secondo me Quindi Qua abbiamo già preso tutto quanto Forse l'arcade cabinet Cioè quello per giocare i videogame I cabinet Non so come chiamarli in italiano Ragazzi Cos'altro ci manca Ci manca Qualcosa all'esterno No A me sembra di avere Ah no Gli armadi ragazzi I cabinet No Non si chiamano cabinet Si chiamano wardrobe Tecnicamente Dove cavolo si trovano Eccoli qua Li abbiamo trovati Li abbiamo trovati Quattro di questi Quattro Anzi tre Di questi qua Sul marroncino Due un po' più bassi Vediamo se ci sono i letti Quelli super belli Questi qua Quelli con la tendona sopra Ne facciamo uno rosso Di sinistra E anche uno rosso Di destra Ok Abbiamo prima secondo me Un po' troppo Getti ragazzi Qua è Mettere tutti quanti L'esterno Verrebbe un disastro E questo quadrato rosso Qua devo ammetterlo È assolutamente Da allargare Quindi facciamo una cosa Facciamo una cosa Fatta a vedere bene Vogliamo che la sfida Sia divertente Per i nostri amici Dobbiamo per forza Allargare Perché essendo anche Un costruttore Devo caprire anche Le dimensioni Di le cose che costruisco Quindi Andiamo ad allargare Un pochino E direi che facciamo Almeno più largo Di quattro blocchi Da questo lato Ah e ragazzi È molto importante Ci tengo veramente Molto a sapere Se questo tipo di sfida Che non ho mai fatto Vi può piacere A livello di idee Perché secondo me È una sfida divertente È una sfida Che non abbiamo mai fatto Dentro la vita in città Quindi vorrei sapere Da parte vostra Cosa ne pensate Allora Qua Lagga un pochino Aiuto Ok Poi togliamo questi Mi prendo anche Queste 6 chest Ragazzi Ho allargato per bene Quindi devo soltanto Piazzare del terriccio a terra Per togliere i buchi Che c'erano prima Però Ho pensato Che qua riempire troppo di mobili Quindi per ora Lascio nelle chest Poi più avanti Posso magari lasciare Un po' in giro Qualche oggetto Quindi qua magari Mettiamo sulla roba Della camera da letto Invece di qua Mettiamo La zona bagno Quindi questo La shower Quindi la doccia Anche la lettiera Quindi roba igienica Se la possiamo definire In questo modo Poi qua fuori Lasciamo le robe Un po' più ignorantine Quindi per esempio Un mappamondo Il coso Il cabinet dei giochi Poi da questo lato Magari mettiamo La zona cucina Quindi mettiamo Vediamo Il mexican Table Cupboard Poi anche il tavolo Giapponese Il mixer La cappa Il microonde Anche la stufa Mettiamo dentro E poi E poi Magari un'altra chest Qua un po' più lontana Tipo qua Mettiamo Le sedie E quindi le robe Anche un po' Per l'esterno Non scusatemi Per il soggiorno Dovevo messo la roba Della cucina Qua dentro Sì perché Mi sono dimenticato Di mettere il microonde E il forno E anche Mettiamo anche Le lampade Ragazzi Va benissimo così Ok Allì che abbiamo fatto Praticamente Quasi tutto Ma ora È arrivato il momento Un po' Della vendetta Per questo scherzo Che vogliamo fare a Gabby Allora Vediamo Se è nella sua stazione di polizia O nella stanza D'interrogatorio Che gli ho fatto Allora vediamo Gabby Icube52 Eccolo qua Ciao Gabby Allora Innanzitutto Buon compleanno per ieri Te l'ho fatto in privato Ma te li voglio fare Anche nella vita in città Grazie mille Grazie mille Sei gentilissimo Prego prego E guarda Ti dico due cose Innanzitutto voglio chiederti Andiamo a vedere un attimo La zona di interrogatorio Perché forse qualche mio amico Non l'ha ancora vista Dove è che era La zona di qua Era di qua Era di sopra il mio ufficio Ti piace come zona? Cioè come stanzetta? Mamma mia mi hanno proprio aiutato Abbiamo già preso Hai già Hai già interrogato? Sì sì ho fatto tutto Ho già fatto tutto Ok Ha fatto paura Ma secondo me La cosa che ha fatto più paura Era il teschio Cioè La davanti Che gli incuteva timore In continuazione Bravo 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 Ottimo Sono felice che ti sia piaciuta la stanza Allora Ti dico Se vuoi Seguimi un attimo Perché all'IKEA In realtà Ti ho fatto anche un regalo Per il compleanno Dai una sorpresa Gabby Vieni con me Vieni con me No vabbè Non dovevi Allora Visto che tutti quanti Mi hanno fatto un regalo Anche per il mio compleanno Ho detto A sto punto Ogni volta che c'è un compleanno Di qualcuno Ma sei tu che hai fatto un regalo A tutti al compleanno Eh lo so però Dai siamo tutti quanti buoni Va bene Regali su regali Sei il più buono Mark Sei il più buono Di più in grande Ok Ok Ma ce ne hai già una Io vivo sotto un ponte Hai visto la mia casa Vabbè Lasciamo perdere Lasciamo perdere Allora salta pure Hai il permesso di saltare sopra il tavolo Dell'IKEA Oh aiuto Che onore Allora Ti dico Vieni qua dentro Che questo qua è la mia zona magazzino Entra pure C'è una cesta là in fondo Lì c'è il tuo regalo Ok Entra pure Ok Vediamo qua un attimino Ok Ti ho regalato Ti ho regalato Le Nintendo più vecchie Che ci potessero essere Caro buongabbi Sì hanno un nome Un po' storpiato In Minecraft Però Ti piacciono Beh sì Diciamo la Switch Era un po' più carina Però queste magari su eBay Ok Se ho scherzato Le terrò io Grazie di cuore Ok A dopo Ciao Come Mark Io non posso uscire Di qui Mark Eh sì Scusa Sono lontano Non prende dietro al muro Dimmi Ma che cos'è questo scherzo Eh Ah è vero Scusami Non ti ho detto il codice Per uscire dal magazzino Gabby Eh me lo sono dimenticato Eh scusa Com'è Mark Aspetta Forse era Ti prego Fammi uscire Cinque 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 No Non era Ah ma sai perché sei rimasto chiuso qua dentro Perché Ma non te lo ricordi No Ma Gabby Allora fai un attimino Mente locale Scusami Allora Io ti ho fatto l'interazione Interrogatorio Scusa Mark Sì Mi dica Non pensavo Quindi devi pagare i debiti Con l'IKEA Signor Gabby Fuori Venga subito qua Mi hanno detto Tutti quanti Che non mi hai dato Neanche un euro Per la zona Dell'interrogatorio Non l'ho fatto Ok Ma Marci Quanto ti devo pagare Dammi Allora Facciamo gli amici Contando i mobili Intorno ai mille Dai Perché Era il tuo compleanno E tutto quanto Dai Enjoy Dell'ingotto Grazie Guarda Gabby Finalmente siamo riusciti A farci pagare Da Gabby Ragazzi Qua 1020 euro Mi ha dato Gabby Meno male Grazie che me lo avete ricordato Ogni volta Ma qua c'è ancora Il sindaco Sid Che si fa vedere Gli piacerà stare in banca Gli piacerà Comunque allora Prendiamoci qua I nostri bellissimi soldini Mettiamoceli via da parte Mettiamoci tutto quanto Quello che Gabby ci ha dato Dentro al portafoglio Quanto abbiamo per ora 6.290 ragazzi Sapete dove andiamo con questi soldi Andiamo Al negozio della Apple Perché ho saputo Che Marci Tecnicamente ha preso in gestione La Apple Quindi io sono curioso Essendo che è un negozio nuovo Vorrei andare a visitarlo Vorrei andare a vedere Se c'è qualcosa Che io possa acquistare Lo so Marco Mai 55.500 euro di debito Però ragazzi Non è che ho questi soldi qua Di debito Io non posso più vivere Lo so ragazzi Voglio soltanto Far andare in giro Per vedere c'è qualcosa Magari Un bel Apple Watch Chi lo può sapere Io sono un curioso Vorrei andare a vedere Se posso comprare qualcosa Permesso C'è qualcuno Alla Apple Quanto c'è nessuno Buongiorno Salve commessi Non ci siamo ragazzi Non ci siamo Non ci siamo Devo dire Marci come si mantiene Per bene un negozio Perché io sono un esperto Di negozio ormai Allora Apple Watch Terza generazione 200 euro Mi pare un po' troppo iPhone 8 128 giga 300 euro Questo è un bel prezzo iPhone XR A 128 giga Rosso 600 euro Questo è un bel prezzo Guardate quanti iPhone Ci sono in esposizione Ma sono tanti Ma sono tanti Allora MacBook Pro Con l'i7 Che è lo stesso Che ho anche io Ragazzi 2000 euro Cavolo ragazzi Sono tanti Anche questo qua MacBook Pro Modello i7 Sempre 2000 euro Ok qua ci sono un sacco Di smartwatch Qua c'è Uuuuh Questo qua È il È il Pro È il Mac Pro Quello che costa Tipo 70.000 euro Di computer Ok Wow 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 Perfetto perfetto Andiamo di qua Poi vediamo Qua c'è un Mac Pro Ecco medium Di livello medio 9.000 euro Ok Ok ragazzi Questo costa tanto Ma io quasi quasi Me lo comprerei ragazzi Perché è un prezzo Incredibile Ma vale la pena Questo computer Poi Qua cosa c'è C'è un MacBook Pezzo d'epoca Del Macintosh Del 1990 Cavolo ragazzi Questo qua È un oggetto d'epoca Questo oggetto qui Vale veramente tanto Dover consigliare a Marci Di non lasciare Mai Un computer del genere Così in bella vista Anzi ragazzi Scrivetemi qua sotto Nei commenti Qual è il vostro telefono Io per esempio ragazzi Ho un iPhone So che Marci ha un Samsung È un po' un controsenso Che Marci abbia un Samsung E poi ha il gestore Della Apple Però ci può stare Ci può stare Quindi scrivetemi qua sotto Nei commenti Qual è il vostro telefono Che metto il cuore A tutti quanti ragazzi Che sono iscritti al canale Quindi Iscrivetevi E attivate la campanellina Poi Ragazzi Io credo che Il lavoro all'IKEA Sia terminato Abbiamo praticamente fatto Un bel lavoro Per questo minigame Che faremo con gli altri Per settimana prossima Anzi Vi ricordo di dirmi Nei commenti Anche se l'idea vi è piaciuta Per me è molto importante Quindi Vi ricordo ragazzi Che dalle 7.30 Di oggi Di questa sera Sarò in live Nel canale che trovate In descrizione E anche nei commenti Venite perché ci divertiamo E giochiamo tutti quanti Assieme a Minecraft Mi raccomando Scegliete uno Dei due video qua davanti Per rimanere sul mio canale Iscrivetevi al mio canale Coltassiero Su qua sotto E attivate la campanella Su tutte quante Le notifiche E da Minecraft Tutto ragazzi Ciao ciao